Colpo grosso della macerdese che sbanca il campo del San Cesario vincendo per 3-1 al termine di un match combattuto d'Imbirigo fino all'ultimo minuto. Prima occasione per il San Cesario con il servizio di Siclari per Tagliarol con la parata a terra del portiere ospite. Alla mezz'ora arriva il gol del vantaggio della formazione ospite. Sul pallone si avventa Melchiorri che mette in rete alle spalle del Duchetto per il gol che vale il momentaneo 1-0 quando siamo giunti al 32esimo nel corso del primo tempo. Partita in salita per il San Cesario con la maceratese che trova il vantaggio. Passano tre minuti e la formazione ospite può recriminare per un dubbio calcio di rigore non concesso dal direttore di gara per fallo su Melchiorri. Arriva viceversa il cartellino giallo per l'attaccante per presunta simulazione. Il San Cesario prova a reagire al 37esimo della prima frazione di gioco. Il pallone per Tagliarol che prova il tiro con la grande respinta dell'estremo difensore ospite Carfagna che mette in calcio d'angolo. Ancora il San Cesario che preme prima della chiusura del primo tempo ed arriva il gol del pareggio della formazione di mister Ferrazzoli. Lo mette a segno Mancini anche se i giocatori ospite recriminano per una probabile posizione di offside dell'attaccante del San Cesario. Ad inizio ripresa è la maceratese a farsi viva dalle parti del Duchetto con Luisi con il suo tiro che sorvola di poco la traversa. Il San Cesario attacca sulla corsia di sinistra con Delgado che entra in area e fa partire un grandestro che Carfagna mette in calcio d'angolo. Ancora San Cesario in avanti qualche istante più tardi qui con la conclusione di Tagliarol dopo il bel servizio di Sicradi con la pala che esce di un soffro. Al quindicesimo del secondo tempo la maceratese trova nuovamente il gol. Fallo da rigore di Del Duchetto su Melchiorri lanciato a rete per il direttore di gara e calcio di rigore ed ammunizione dell'estremo difensore del San Cesario. Dal dischetto si presenta Carboni che non sbaglia siglando così il gol del 2-1 che riporta avanti la maceratese. La formazione ospite continua a prendere coraggio e si rende pericolosa anche qualche istante più tardi. Qui con una bella azione da parte di Carboni il suo tiro dalla distanza con la respinta da parte del Duchetto. Sempre maceratese in avanti al minuto numero 28 del secondo tempo qui c'è il cross al centro con la rete. In realtà si tratta di un autogol ma il direttore di gara annulla per un possibile fallo in attacco di Melchiorri sul difensore del San Cesario. Tutto da rifare quindi ma poco male perché la formazione ospite trova il gol del definitivo 3-1. Quando siamo giunti al 34esimo sul trio di Carboni la respinta del Duchetto si avventa Russo che mette così in rete per il gol del 3-1. E questa l'ultima emozione del match prima del triplice fischio che sancisce la vittoria per 3-1 della maceratese in casa del San Cesario.